Giovanni Giacometti Giovanni Babbone e Carlino Oggi andiamo a visitare la pittura di Giovanni Giacometti Certamente, andremo a vedere le Splankers D'accordo, andiamo a visitare Ok Giovanni Giacometti Allora ragazzi, è nato a Borgonovo di stampa in Val Bregaglia Figlio di Alberto, panettiere di Caterina Ottilia Santi Cugino di Augusto Giacometti Punto Studio a Corrival dal 1884 al 1886 Poi si è vecchio a studiare a Monaco dove frequento scuole d'arte private ma non riuscì ad entrare in accademia E incontro Cuno Amiett Suo amico per tutta la via... Suo amico per tutta la vita Ciao Senta pazienza Questa è l'opera di che Kerb sta invento? Certo Era d'arte in montagna Va bene E ha fatto un disegno nella Svizzera Certo Allora cani Alberto Giacometti faceva scultura moderna E poi faceva scultura Magre 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 Oh che stomaco è magro Già Già Dovesti fare Un cibo buono No Non è odio del cibo Tu prendi il cibo State calmi Amici cani E' solo le pe... E' solo il padre Giovanni Certo è una scultura moderna Ma... Non ci sono le pe super 들i Per lavare issimi o cibo Voro Are Innere San Allora Mario Credo Per Grazie a tutti